Big Bird e Nest, mi sto avvicinando alla costa. La situazione meteorologica non è ottimale. Meglio procedere, scattare comunque delle foto. Con un po' di fortuna posso fotografare qualche schimese che prende solo il tople. Nest, dobbiamo annullare tutto a causa del tempo. Ricevuto, Big Bird. Il motore 1 è fuori uso. Non capisco che succede. Big Bird e Nest! Mayday! Mayday! Adesso torniamo a una notizia che seguiamo da questa mattina.